No, non li faccio io. No, ma non ricordo quanto è successo allora che parlavo. Però questa è ricca, non parla di niente, non parla di niente. Siamo sincrona. No, assolutamente. No, non parla di niente, non parla di niente. No, 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 non parla di niente. è uguale, va bene i lunghi e per me non c'era un ragazzo francese, vero? per me non c'era un ragazzo francese